Aspetta un attimo che ti litigio. Ma hai sentito? Ma no, sono dici lì. Buono, buono un attimo. Te lo picchiamo di nuovo su YouTube. Vai, fai anche l'intro di prima. Sono venti giorni, ti tocchiamo il pane, davanti al crucifisso di Gesù. Oh, Rizinger ci dice che sconviene, che queste cose lui non le fa più. No, caro Peppino, no. No, così non va. Che importa del pudore, se titillarci da felicità. Di Cristo sono il primo legionario, e sono pure un grande esplorazor. Ti prendo un giovincello in seminario, dall'anno poi l'esploro fino al cuor. Ma, caro Peppino, ma, tu zitto sta, se parli al genitore, vedrai poi quello mi denuncerà. Quel chiacchierone d'un seminarista, ma col suo parlare m'ha fottuto, ahimè. Ma un bimbo sordo, muto e senza vista, è proprio quello che ci vuole per me. Sì, caro Peppino, sì, così mi va. Lo esploro con furore, che tanto dopo lui non parlerà.